Oggi è venerdì 29 settembre e sono le tre e mezza di pomeriggio. Questa è la situazione di Viazzone-Visconti. Potrebbe essere benissimo presa per Napoli. Naturalmente non è finita perché noi continuiamo, giriamo e abbiamo un bel sacchetto di plastica. Un bel topo, una bella pantegana morta, vedete, con tanto di mosche e siamo di fronte al hotel Ponte Vecchio, strada centrale. Sicuramente si continua. Continuiamo ancora così. Questo potrebbe essere Napoli, non letto. Questa dovrebbe essere una via centrale di Lecco, notare la pulizia. E poi dopo dicono dei napoletani. Secondo me i napoletani sono dei signori.